Sta roba di fare le patatine in auto mi fa impazzire, un fumante, che meraviglia! E allora bentornati per un nuovo video di Gadget Tech per l'auto, il primo video della serie è andato benissimo, vi è piaciuto un sacco, vi invito a recuperarlo dopo di questo se ancora non l'avete visto, ma oggi vedremo cose ancora più interessanti dei gadget pazzeschi, vi dico solo che ho bevuto il caffè, ho mangiato le patatine, ho fatto un sacco di cose. Quello che vi chiedo è sempre il consueto supporto anche a fine video, se volete lasciate un like, iscrivetevi al canale, per voi è gratis, per me è molto molto importante. Che poi tutti gli articoli che vedrete oggi sono tutti acquistabili da Amazon e in alcuni casi anche in offerta sul mio canale Telegram, ma per partire alla grande parto con il primo gadget che forse non è particolarmente tech ma è particolarmente indispensabile in ogni autovettura, perché? Perché prima o poi pioverà e un ombrello lo dovete avere con voi. Io ho scelto questo che ho preso direttamente su Amazon perché? Perché ha due caratteristiche uniche. Vabbè, intanto è portatile e quello va da sé, ma una volta aperto diventa un ombrello anche di, direi, discrete dimensioni. Ma non è questo naturalmente che lo contraddistingue, ma è questo. Piove a dirotto, mi avvicino alla macchina, cosa faccio di solito? Chiudo l'ombrello e velocemente butto dentro l'ombrello e dentro. Ecco, con i normali ombrelli si bagna tutto, tapezzeria, sedili, eccetera. Questo invece, come vedete, è un ombrello rovesciato. Questo perché l'acqua, che normalmente è sopra l'ombrello, viene racchiusa qui all'interno ed evita di andare a bagnare, appunto, l'interno dell'autovettura. Ma non è finita qui perché nel manico c'è la seconda caratteristica top, cioè una luce LED che può essere d'aiuto, appunto, nelle ore serali dove c'è poca visibilità. Un ombrello, secondo me, assolutamente da avere in automobile, proprio per quelle che sono le sue caratteristiche e anche perché, come vedete, come vi ho anticipato, una volta richiuso è molto piccolo. Quindi ci sta all'interno anche di uno zaino, oltre che in qualsiasi altro portaoggetti dell'auto. Il secondo prodotto è sicuramente il più importante della selezione, anche a livello di prezzo, ma non necessariamente legato per forza solo all'autovettura. Anche se io lo vedo proprio in un contesto di viaggi, di libertà, di indipendenza, di indipendenza soprattutto energetica. Eccola qua, signori. Questa è la Delta II di EcoFlow. Una batteria, ma che dire batteria, questa è una centrale elettrica più di un kilowatt di potenza che può essere stesa con altre unità fino a un massimo di tre. La cosa bella e impensabile fino a qualche anno fa è che una potenza del genere possa stare in dimensioni così compatte con un peso tutto sommato, direi, umano, perché siamo sui 12 chili. Potenza, come dicevo, un kilowatt che però può arrivare a un picco di un kilowatt e otto, ma c'è un display qui che ci dà tutte le indicazioni necessarie. Si accende, display, carica residua 63%, qui dà una stima di durate, naturalmente adesso è a carico zero, e qui c'è sia l'input che l'output. L'input perché si può andare a ricaricare con i pannelli solari. Io l'ho provato all'interno della mia abitazione con pannelli da 200 watt che possono essere portati tranquillamente con la custodia in dotazione. Custodia poi che, come vedete, può essere utilizzata anche per andare a posizionarli in favore di sole, per prendere la migliore angolazione. 200 watt, direi, più che sufficienti per ricaricare la batteria quando, ad esempio, si è in giro, si è a un momento libero. Io l'ho utilizzato mentre lavavo l'auto, ma ho ricaricato la batteria anche nel mio balcone di casa, ma provate a immaginare, siete in vacanza, siete in campeggio, posizionate il pannello e durante la giornata questo ricarica la batteria, che ovviamente si può ricaricare o con la presa di rete Xtreme, che dà una carica da 0 a 80 in 50 minuti, oltre che naturalmente la possibilità di ricaricarlo, oltre che con i pannelli, anche con l'accendisigari dell'auto mentre si viaggia. Come vedete già qua ci sono ben 4 porte suco a 230 volt, una porta accendisigari, fondamentale, 2 AC, ma non è tutto perché dall'altra parte abbiamo 4 porte USB-A con anche il fast charge, oltre che 2 porte USB-C a ben 100 watt. Questo vuol dire avere una completa indipendenza energetica, sia per quello che riguarda piccoli elettrodomestici, il computer, tutti gli smartphone, droni, qualsiasi cosa ci si porti dietro. E per farvi vedere le effettive potenzialità e anche le capacità di carico che arrivano fino, come vi dicevo, a 1 kilowatt e 8, proverò a cucinarmi delle patatine fritte direttamente qui nella mia autovettura. Sfruttando la possibilità di collegare la mia friggitrice ad aria a una delle prese Shuko della Delta 2. La batteria è carica al 93% perché io ho scelto tramite app di non caricarla mai al 100%, anche per preservarne ulteriormente la vita utile. Patatine surgelate da forno. Sì, lo so, non andrebbe utilizzata la carta forno nella friggitrice ad aria, però poi chi la pulisce fidatevi di me. È l'ora della verità, proviamo ad accenderla. Ok, si è accesa. Adesso seleziono modalità patatine. Uh, è partito! Assorbimento 1 kilowatt 4,60. A questo ritmo avremmo 34 minuti di autonomia, ma le patatine in meno di 15 minuti dovrebbero essere pronte. Ovviamente la batteria ha bisogno di un'ottima reazione, e qui ci sono le ventole che a pieno carico partono e si sentono. Questo è un aspetto da valutare. Ok, patatine dovrebbero essere cotte, mi sembra di sì. Ci mettiamo un po' di sale, quanto basta. Capito perché vi dicevo di usare il cartosso? Mmm, buonissime! Poi cucinate in auto, sono ancora più buone! Il fatto poi che abbia due maniglie la rende particolarmente portatile, si può spostare tranquillamente ovunque serva, la vedo ideale in mille contesti. Anche solo lavorare con degli attrezzi elettrici dove non c'è l'elettricità, oppure passare un weekend in una baita dove non c'è la corrente, ecco, con la possibilità e la capacità di questa batteria tutto è possibile, se poi si utilizzano anche i pannelli ed è una bella giornata meglio ancora, perché poter ricaricare con energia pulita e soprattutto gratuita del sole è una gran bella cosa. Naturalmente è un'attrezzatura che ha un suo costo, ma è giustificato non solo dalla potenza, ma anche dalla tecnologia che c'è al suo interno. Intanto è Bluetooth e Wi-Fi, c'è la sua applicazione, con la quale poter controllare praticamente ogni aspetto della batteria, dall'input all'output in tempo reale, quanto sta caricando il pannello solare, quanto lo ricarica dalla corrente di casa. A proposito, sempre dall'app si può andare a modulare quello che è l'ingresso, perché di default ricarica alla massima potenza, ma dall'applicazione si può abbassare, questo permette anche di abbassare la rumorosità delle ventole, che comunque provvedono a raffreddare la batteria, ma naturalmente più il carico è elevato, più le ventole fanno il loro lavoro, quindi si può ovviare anche in questo senso. Io tra il resto dall'applicazione ho deciso di andare a modulare sia la percentuale di scaricamento che la percentuale di carica, quindi non la porto mai sotto il 20%, non la porto mai sopra il 95%. Questo permette di preservare la durata della batteria, che comunque sulla carta consente ben 3000 cicli di carica. Se pensate, la usate una volta al giorno, vi dura 10 anni. Ed è per questo che vi dicevo, a fronte del prezzo, è un prodotto che definire batteria è riduttivo, è una vera centrale elettrica molto sofisticata e espandibile con eventuali upgrade. Qui effettivamente c'è una porta dove poter collegare altre batterie di backup, che in un periodo di crisi energetica come questo, potrebbe essere anche una soluzione per andare avanti, qualora ci fossero dei improvvisi blackout. Adesso parliamoci chiaro, dopo che hai mangiato le patatine fritte, o comunque ti sei mangiato anche un panino, se non hai questo tipo di belleità. Beh, insomma, siamo in Italia, no? Ci sta un buon caffè. Anche se non sempre è possibile andare a bere un buon caffè, però è possibile farselo in auto, e questo è il meraviglioso gadget tech che sto provando in queste settimane, ed è favoloso. Una macchina del caffè a capsule elettrica, che ti permette di bere il caffè in automobile, ma ovunque tu sia. Questo perché lei si può alimentare, ovviamente con la porta accendisigari dell'auto, per stare sempre carica, ma quando scendi vai a farti una passeggiata, ad esempio nel bosco, vuoi farti il tuo caffè, beh, te la porti dietro. C'è la sua batteria che ti permette più o meno di fare 3-4 caffè, non di più, perché soprattutto l'energia viene dispersa dal riscaldamento dell'acqua. Acqua che va semplicemente messa qui sopra. Funziona con capsule tipo un espresso, questa ad esempio non è originale, è assolutamente di quelle compatibili e anche più economiche, però buona comunque. Si inserisce la capsula qui all'interno, si chiude il suo tappo di sicurezza, si chiude col tappo che fa anche da tazza volendo. Qui ci sono le tre tacche dell'autonomia. Ok, adesso la macchina è accesa, allora adesso ci impiegherà circa 10 minuti per scaldare l'acqua e poi emetterà il suo caffè. Fa un caffè alla volta, che non sarebbe un problema, perché tutte le macchine bene o male fanno un caffè alla volta, quelle a capsule. Il fatto è che ci mette 10 minuti per ogni caffè, quindi se siete in tre persone dovete un attimino fare la fila, però la vedo più come una macchina da singolo che si fa il suo caffettino quando è in viaggio, non vuole fermarsi, andare al bar, o magari il bar non c'è, se siete all'estero. Vedete come lavora? Ok, bip, è pronto. Adesso sento già odore, sento già odore di caffè. Uh, fumante. Guardate qua. Che meraviglia. Mmm, è buono. È veramente buono. Che bomba sta macchinetta del caffè. Cosa c'è di più bello di bersi un caffè qua in mezzo alla natura, appena fatto caldo con la capsula? E dopo esserti bevuto un buon caffè non ci sta un ammazza caffè, è una bella grappetta. Scherzo, non si beve quando si guida, ma alle volte può capitare che magari sei andato a farti l'aperitivo, un bicchiere in più con i colleghi e gli amici e non sai se puoi rimetterti alla guida. Allora, consiglio mio, se avete bevuto non mettetevi mai alla guida. Però alle volte magari hai bevuto semplicemente un goccettino e potresti guidare perché la legge dice che fino allo 0,50 grammi per litro nel sangue sei ancora nella soglia di legge. Come fare a saperlo? Beh, quando te lo dice quello della polizia municipale è troppo tardi, però ci sono degli apparecchi che permettono di fare il classico pre-test e quindi vedere se sei vicino o lontano da questa famosa soglia. Io ne ho acquistato uno di quelli economici su Amazon, super portatile, sta nella tasca quindi te lo puoi tenere sempre con te. Ovviamente non è un apparecchio omologato quindi ci tengo a dire se lui vi da 0,49, occhio perché questo non c'entra assolutamente niente con quelli professionali serve perché perché lo accendi al suo display ci soffi dentro se hai luce verde beh, in teoria dovresti essere a posto se già inizi a essere luce gialla o peggio ancora, luce rossa allora a quel punto sei o al limite o anche ben oltre il limite e quindi il caso di non prendere assolutamente l'autovettura. È comodo perché ti evita eventuali brutte sorprese è comodo anche perché a differenza di molti altri che ho visto in vendita su Amazon questo ha la porta USB-C e una sua batteria interna oltre che un display che ti dà anche quelli che sono i valori anche se ci tengo a dire che secondo me non sono precisi al 100%. Un gadgettino utile che forse potrebbe salvare la patente quando non sia in grado di capire se quell'aperitivo in più quello Spritz Aperol potrebbe eventualmente pregiudicarti la possibilità di guidare. Beh lo sappiamo una cosa fondamentale in auto è avere un posto dove poter poggiare il nostro smartphone magari poterlo anche utilizzare in sicurezza e perché no ricaricarlo in questo caso dedicato ad iPhone ma nel video precedente ho già portato una soluzione molto sfiziosa universale qui beh è una soluzione col MagSafe che secondo me è veramente la soluzione migliore se avete un iPhone di ultima generazione perché tac lo vai attaccare e il problema è risolto. La comodità di questo tipo di soluzioni è proprio poter gestire tutto con una singola mano quindi io attacco il mio iPhone qui lo posso tranquillamente caricare lui va già in carica ma nel momento in cui mi serve io lo stacco senza dover andare con due mani a disinserire il cavo ed è questo il vero valore aggiunto di utilizzare un supporto MagSafe che col magnetismo riesce a tenerlo in maniera molto molto salda perché non si staccherà mai ma con il discorso della ricarica wireless te lo tiene anche in carica con un singolo cavo. Altra cosa super interessante è ovviamente quella di poter utilizzare la modalità orizzontale ed ecco che in questa maniera possiamo utilizzare l'iPhone anche come uno schermo multimediale aggiuntivo per vedere una serie tv un video qualsiasi cosa quando si è fermi. Il bello di questo modello di ESR è proprio questo metodo di aggancio a pinza che va a prendere tranquillamente l'aletta qua del condizionatore e poi c'è questo supportino anche lui regolabile che si appoggia appunto al cruscotto e permette al tutto di stare molto molto stabile anche quando ci sono buche avallamenti o comunque vibrazioni relative alla guida e se ve lo state chiedendo qui sotto è gommato quindi non si rischia di andare a rovinare il cruscotto se avete delle finiture lucide o particolarmente preziosi. Allora in questo caso metto un 13 Pro Max perché? Perché è più grande più pesante e soprattutto lo proviamo in contesto cittadino quindi con più buche più vibrazioni così possiamo vedere insieme l'efficacia di questo supporto. Soprattutto quando in città ci sono anche questi dossi adesso ne prendo un altro sperando di non distruggere il differenziale o le zero problemi davvero ottimo supporto lo straconsiglio soprattutto per il rapporto qualità press. Non so se capita anche a voi ma quando io viaggio con la mia compagna facciamo un viaggio che sia corto o lungo poi torno in garage apro la macchina e la situazione è sempre questa. Rifiuti di ogni genere della serie dopo lo butto e poi rimangono sempre lì nella portiera dell'auto ed è una cosa che mi fa impazzire. Ed è per questo che ho pensato di acquistare questo porta oggetti barra bidone della spazzatura da auto. È super pratico perché è pieghevole si apre e lo si può attaccare un po' dove si vuole. Io l'ho messo qui tra i due passeggeri ma si può mettere anche davanti o attaccato al sedile ci sono un po' di agganci dove poterlo sistemare. La cosa comoda è che c'è questo pratico ingresso. Tac inserisci tutti i tuoi rifiuti e quando è pieno torni e lo svuoti ma può diventare anche un porta oggetti volendo perché a parte che ci sono le tasche qui laterali più una tasca trasparente dove inserire non lo so il power bank il cellulare quello che vuole insomma i passeggeri possono mettere quello che vogliono ma all'interno insomma si può togliere il discorso della spazzatura e inserire qualsiasi altra cosa. Certo è che il suo vero utilizzo è questo una pattumiera portatile da tenere in auto dove tutti i passeggeri possano mettere i loro rifiuti ovviamente solidi non le bucce di banana o cose del genere e poi quando si arriva a destinazione lo si svuota e si è pronti per un nuovo viaggio. Questo è uno di quegli oggetti che come l'ombrello non è tech ma sono tra i più utili che alla fine puoi acquistare perché ti permettono di tenere in ordine e pulita l'auto. L'ultimo secondo me è un gaggettino davvero sfizioso direi ideale per chi ha autovetture magari un po' meno recenti rispetto a questa oppure ha un fuoristrada un camperino un van perché? Perché ti permette di accedere ai dati dell'autovettura tramite la porta OBD ma è difficile spiegarvelo ve lo faccio vedere. Il cavo praticamente si attacca qui sotto alla porta OBD generalmente sono tutte qui sotto le porte OBD delle autovetture e il cavo naturalmente funge sia da alimentazione che anche da passaggio dati che è quello fondamentale. Qui ad esempio abbiamo la visualizzazione in stile fuoristrada quindi con i gradi di inclinazione la bussola le coordinate e ovviamente l'altitudine in tempo reale 790 metri in effetti qua siamo sopra Bolzano ma con la levetta posso andare a cambiare la visualizzazione qui ad esempio ho tutti i satelliti e le coordinate precise i satelliti agganciati oltre che la direzione e la velocità secondo il GPS. Qui poi ho diverse visualizzazioni di velocità e vari parametri anche dell'autovettura perché posso vedere in questo caso sia la direzione in cui sto andando l'altitudine la velocità media quella massima ma qui ad esempio ho dei valori riguardanti la temperatura dell'acqua i giri motore e anche la tensione della batteria e qui una visualizzazione un pochettino più sportiva incentrata più che altro sui giri motore e qua abbiamo addirittura la pressione del turbo da qui invece ho una schermata con tutti i dati semplicemente quindi zero grafica posso vedere un po' tutti quelli che sono i parametri che mi possono interessare e poi qui tutta una serie di informazioni un po' più specifiche qui come vi dicevo c'è questa levetta ma è anche un tasto vedete qui se lo premo vado a cambiare ad esempio la pagina con tutti questi dati che arrivano dall'OBD ora siamo tutti d'accordo che a livello estetico non è proprio il massimo della vita soprattutto su un'autovettura come la mia ma su altri tipi di autovetture su camper su jeep comunque su auto un po' più spartane anche a livello di cruscotto secondo me ci sta la grandissima comunque non c'è da preoccuparsi perché questo adesivo è uno di quegli adesivi non adesivi cioè attacca e stacca senza colla non rimane assolutamente niente sul cruscotto su altre superfici dove andrete ad attaccarlo a livello di informazioni è incredibilmente completo per quello che costa secondo me ne vale la pena insomma che dire spero davvero che almeno uno di questi gadget tech per l'autovettura vi possa essere utile se così fosse dai scrivetemelo qui sotto nei commenti quello che vi è piaciuto di più se avete da consigliarmi qualcosa e se il video vi è piaciuto lo sapete basta un like e l'iscrizione al canale per supportarmi grazie da Manuel Agostini noi ci vediamo per un prossimo video sempre qui sul mio canale youtube e l'iscrizione al canale